allora sono qui in solidworks e in 3d experience scusate e volevo creare i miei due gruppi classe ok non so se questo è corretto però voglio provare a creare far vedere come usare i gruppi intanto creerò questi due gruppi poi se dovessi non dovesse essere corretto cancellerò comunque per me l'idea è buona allora dove vado vado qui su questo clicco qui ma i social and collaborative sulle apps collaborative clicco col tasto sinistro e vado qui in user group faccio due clic ovvero lo trasporto ok ho già creato un gruppo il mio quarta a 2019 20 naturalmente bisogna il minimo si può mettere su tre lettere dunque ho aggiunto anche l'anno che può sempre tornare comodo e dunque clicco qua new group e questa volta metto metto quarta m 2 0 19 20 ok posso mettere gruppo classe quarta m qui si potrebbe anche importare ok e qui scaricando qui si vede l'esempio se faccio scarico così ok scarica il file di esempio dunque si potrebbe mettere tutti i nominativi in un file c punto csv tipo excel ok che potrebbe anche far così magari più comodo comunque alla fine dunque rifaccio vado a creare un nuovo gruppo metto quarta m 2 0 19 20 ok va beh questo semmai gruppo classe quarta m maiuscolo ok classe ok schiaccio qua col tasto sinistro crea crea ok qui cliccando qui poi io posso aggiungere i membri per esempio cliccando qua è un po lungo questo quello che posso dire è che diventa un po lungo naturalmente qui potrei anche cancellare il gruppo e qua invece editare le proprietà è un po lungo perché bisogna ricordarsi tutti i nomi vabbè quello non è un problema però l'avevo già messo il network si poteva anche vabbè comunque andiamo a cercarne uno che sicuramente o dunque clicco qua e faccio ad ok vediamo ad avrei posso fare più più persone naturalmente vediamo posso anche andare a mettere vediamo se mi ricordo allora ok e dopo magari mettere tutti i nomi che mi ricordo ci siamo andiamo andiamo a vedere ok e poi faccio ad ok va bene qua dopo posso chiudere i miei gruppi rimangono qua ok ci vediamo alla prossima arrivederci